Pronte all'inizio del terzo tempo a campi invertiti, Roma nuoto alla nostra destra, la calottina bianca e rossa, allo schiatto numero 2 Valerio Vistilli, l'arbitro fischia, si parte, si giudica lo scatto il Valerio, Valerio per Battistelli, Battistelli ancora alla e pallo di massimo, pallo all'ora, numero 7, numero 7, numero 09 parte qua sotto con serve il numero 3, contrastato da Giovanni, ma la palla lo induce a un tiro molto lungo che non in pezzi riceve Manuel, Manuel le serve Vistilli, Vistilli e Stefano, Stefano vede la traversa, purtroppo vede la traversa, peccato, peccato. Palla, ora serve Vistilli, Vistilli trova il compagno Giovanni Nippolo, Giovanni ha passaggio un po' corto per Massi, ma Massi subisce pallo, riporta la palla per Vistilli, porta palla sotto e si riparte con 0-9, anticipato, anticipato Stefano, Stefano anticipa, bellissimo il passaggio dello 0-9, ritorna Vistilli e Massi purtroppo la palla, sfiora il palo, viene servito, palla sotto, alla sotto a 0-9, 0-9 riparte, non ci siamo accorti che stanno giocando, numero 11, la porta in regola, stavamo dormendo un pochino, c'era un pischio di palla sotto ma non si è capita questa azione, tutti fermi, abbiamo sentito un pischio dell'arbita, battistelli per Stefano, Stefano un pochino speciale, con mette pallo, su battistelli, mette pallo, il fili serve contro battistelli, Massi riesce a prendere e si aggiunge il rigore, pallo oltre il deniero e rigore. Alla battuta Pistilli, l'arbitro invita il portiere a stare sotto la traversa, Pistilli, un altro errore, un altro errore, si riparte con 0-9, con il numero 9 ostacolato da Giovanni che gli toglie palla e permette la ricostruzione dell'azione, Pistilli cerca di farsi perdonare per questo tiro ma ancora, ancora non riesce a vedere la porta. Riparte con il 0-9, con il numero 7, il numero 7 bloccato da Massimo che lo ferma senza pallo. Pistilli anticipa il numero 11, prende palla, avanza verso la porta, passa Pistilli, Pistilli sulla porta libera e finalmente, finalmente Valerio si riesce a sbloccare, riesce in questo terzo tempo a mettere la palla in uno. risultato parziale del 5-3 risultato parziale del 4-3 ho amareggiato Valerio, chi riesce dall'acqua, pierre errore. Mattistelli nel frattempo fa il suo lavoro ancora meglio ancora meglio il lavoro di di Andrea Speziale che da solo arriva davanti la porta è indisturbato indisturbato bravissimo bravissimo approvvista di una disattenzione degli avversari e mette la palla ai veti del 5 a 4 chiamato il time out dalla formazione della 0-9 in calottina blu quando siamo più o meno ai 6 minuti e mezzo del terzo tempo più o meno si, più o meno mancano 30 secondi purtroppo non abbiamo in questa struttura il tempo nel tempo nel risultato questo ci rende un po' di difficoltà a noi ragazzi anche per gestire al massimo le possesse passi di palla pronti a ripartire palla 0-9 si ripartirà con il numero 9 che serve serve il numero 12 ma sovrastato letteralmente sovrastato letteralmente gli ruba palla gli ruba palla e il pallone peccato la palla non entra peccato la palla non entra bellissima bellissima azione Stefano Andrea speziale riconquista il pallone passa Massi che sta al centro Massi è seguito dal numero 7 lo sente ma il numero 11 gli ruba il pallone in maniera regolare attenzione attenzione numero 7 il numero 7 prova a dribblare prova a dribblare il il nostro difensore ma viene espulso ancora ancora la possibilità del tiro per la 0-9 ultimi secondi del terzo tempo in cui Manuel passa Andrea Andrea prova prova a dribblarsi il numero 10 viene fermato fallosamente palla per Massimo no per Stefano Stefano ah niente Stefano non riesce a servire Massi che era circondato da due avversari palla lo 0-9 si ricerca di ributtare palla avanti ma Battistelli combatte con combatte no il 2 lasciato libero mette la palla il 1 peccato peccato veramente più 2 per la formazione del 0-9 ha la battuta Massimo Massimo aspetta il fisco dell'arbitro passa dietro a Stefano Stefano cerca un compagno trova trova Battist niente Massimo Massimo prova a riconquistare il pallone palla numero 2 lunga fermato fallosamente da Stefano cercano di servire il numero 11 niente palla palla lunga palla lunga per di di stilli per non so chi c'è nessuno azione terza finisce così il terzo tempo il mister manzo chiede chiarimenti sull'ultima azione più 2 per lo 0-9